80 anni fa, il 5 settembre 1938, la tenuta di San Rossore a Pisa fu teatro di uno dei momenti più bui della storia italiana, la promulgazione da parte di Vittorio Emanuele III delle leggi razziali che portarono solo in Toscana alla deportazione di 670 ebrei. Una data terribile ancora oggi che le istituzioni hanno voluto ricordare proprio nel luogo dove questo avvenne, dove una lapide collocata all'interno di San Rossore descrive gli eventi. Alla cerimonia hanno preso parte tra gli altri il presidente della regione toscana Enrico Rossi, la vicepresidente Monica Barni, il rettore dell'Università di Pisa Paolo Mancarella, il sindaco di Pisa Michele Conti e la presidente dell'Unione Comunità Ebraica e Italiane Noemi Di Segni. Pisa o San Rossore forse casualmente come luogo che diventa famoso per una firma è diventata un punto di riferimento fondamentale per una riflessione su quelle che sono responsabilità ad 80 anni da questa firma, responsabilità di chi all'epoca ha firmato, agito, ha implementato, attuato e in qualche modo collaborato anche indirettamente, responsabilità di chi nel corso degli 80 anni evidentemente non ha colmato un vuoto culturale, educativo, valoriale e che oggi ci porta ad assistere ad altri atti di violenza contro diverse categorie, parole, gesti, anche violenza fisica. Il presidente Rossi ha esortato al dovere del ricordo contro fantasmi che possono tornare. Notizie false, individuazione di capri spiatori, fatti preoccupanti come quelli che si sono avuti quest'estate, io penso soltanto a quante carabine si sono armate per sparare contro i neri, se non è razzismo questo io non sono un procuratore, di fatto lo è in termini almeno di cultura e di sentimento. Contro tutto questo noi bisogna ergere un argine alto, forte, sapere che con i problemi dell'integrazione dobbiamo confrontarci, che sono problemi, che l'integrazione non è una passeggiata, ma se noi ci confrontiamo con razionalità, con i problemi rischiano di risolvere, di rinascere i mostri del passato. Nel corso della giornata è stata inaugurata anche la mostra 1938 La Storia, ricordo su esclusione e persecuzione ebraica e si è svolto un pranzo con i giovani ebrei e rappresentanti di comunità di immigrati presenti in Toscana.